Dottor Greco, pensando e cercando di capire come lei che da esterno può giudicare con una visibilità anche non soltanto italiana questa esistenza delle eccellenze italiane, se ce la raccontiamo soltanto noi o è una cosa che non solo è riconosciuta ma che ha una visibilità. Assolutamente, intanto buon pomeriggio, è un onore essere qui sicuramente, ringrazio Alice per l'invito. Io ovviamente mi occupo di consulenza aziendale, di audit assurance e con il mio network siamo sempre vicini alle aziende, alle realtà e tutte le eccellenze italiane e internazionali. È ovvio che in questo mio periodo, nella mia carriera, nella mia professione ho sviluppato quello che può essere una percezione personale ma sicuramente condivisibile di eccellenza. A volte pensiamo un po' all'accezione di eccellenza connessa magari a un qualcosa di astratto, di impercettibile, il made in Italy quasi, che ci rende magari orgogliosi di essere italiani, di essere europei ma senza formare fondamentalmente una coscienza, una percezione definita. A volte magari la percezione che sia di eccellenza è correlata a un prodotto, a un qualcosa, anche un servizio di prestigio che ha avuto un ottimo collocamento magari nel mercato. Dal mio punto di vista l'eccellenza sono le persone che giornalmente, quotidianamente, con la loro forza, la loro grinta e anche con la loro fantasia riescono a raggiungere degli obiettivi prefissati e ovviamente di instaurare quello che è un circolo virtuoso che porta al consolidamento di una struttura economica importante. Sicuramente è un'accezione mia personale ma sicuramente condivisibile che viene un po' dal mio mondo, un mondo della consulenza in cui le eccellenze che forniamo poi al servizio delle aziende sono le persone, i professionisti che quotidianamente collaborano con noi nell'evoluzione proprio del workforce. Quindi se lei dovesse dare un titolo, l'eccellenza per lei è il capitale umano, le persone? È il capitale umano, assolutamente, la centralità dell'uomo, dell'individuo che col suo lavoro, il suo impegno, ripeto con la sua fantasia, promuove quelle che sono le idee di successo di oggi e di domani.